22, 23, 30 22, 23, 30 22, 23, 30 Cazzo un po' sporci il caso 22, 23 Oh, però la prima innovazione la prima innovazione della serata 22 e H Poi quest'anno non c'è neanche più il stato Meno male Eh, ma c'è anche la missione 2 pezzi di questa stanza Ho capito, ma non si guarda 5 milioni di abbonati 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 Meno, ma se staicanati Ci sono due due famiglie su circa 21 milioni di abbonati Ci Management Ma che cazzo c'hai Ehbo Grazie a tutti